Nel 2023 non si dovrebbe più parlare di femminicidio, un atto codardo e vile da condannare non solo il 25 novembre, ma ogni singolo istante della nostra esistenza. Il Comitato Unico di Garanzia del Consiglio regionale dell'Abruzzo ha presentato la terza edizione dell'evento Io non ci passo sopra, organizzato come ogni anno in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Il Cuga ha il compito di garantire parità e pari opportunità tra uomini e donne di vigilare contro ogni forma di discriminazione e di violenza, diretta e indiretta, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro. 300 scarpe rosse nel piazzale di Palazzo dell'emiciclo all'Aquila. L'installazione sarà visibile fino al 26 novembre. Il colonnato della sede del Consiglio è illuminato di colore rosso, in memoria di tutte le donne vittime di maltrattamenti e femminicidio. In questa edizione sono state coinvolte le scuole secondarie di primo grado dell'Aquila. Gli studenti sono stati invitati a presentare degli elaborati che esprimessero attraverso il disegno, il loro pensiero e le loro emozioni riguardo il tema dell'iniziativa.